Un saluto a tutti. Sono qui a presentarvi 20 piccoli messaggi in pillole su il nostro progetto Madri oltre il tempo della malattia 3.0. Cercherò di darvi dei messaggi brevi che possono aiutarci a capire che cosa sta accadendo in questo momento alla nostra fertilità durante questo periodo così difficile e come fare a sostenere il nostro progetto Madri oltre il tempo della malattia 3.0. Veniamo al primo messaggio in pillole. Pandemia dell'infertilità. Secondo i dati del nostro Ministero della Salute circa il 15% delle coppie non riescono a concepire in Italia una volta che hanno deciso di avere un figlio. E l'infertilità è generalmente definita tale quando una coppia non ottiene una gravidanza dopo circa 12 mesi di rapporti sessuali liberi. Soltanto le coppie sotto i 30 anni possono aspettare oggi come oggi 24 mesi prima di richiedere un'assistenza medica. Secondo messaggio in pillola. Esiste una pandemia della procreazione medicalmente assistita. Ancora secondo il nostro Ministero della Salute circa il 3% dei bambini innati nel nostro paese sono stati concepiti mediante tecniche di PMA in uno dei 360 centri presenti sul territorio nazionale. Le tecniche si dividono in procedure in vivo come la inseminazione intrauterina cosiddetta di primo livello ed in procedure in vitro come la FIVET e la ICSI dove la fecondazione avviene in laboratorio. Terzo messaggio in pillola. Infertilità una realtà inaspettata. Nessuno ci insegna chiaramente fin dall'età adolescenziale che la fecondità della specie umana non è poi così elevata. La probabilità di concepire ogni mese è di circa il 25-30% ed avere un figlio è per alcuni un bisogno rinunciabile che viene dato per scontato senza affatto pensare che possono insorgere degli ostacoli. L'infertilità è dunque nella maggior parte dei casi una sorpresa. Quarto messaggio in pillole. Infertilità come crisi di vita. Quando il desiderio di avere un figlio non viene esaudito, donne e uomini si trovano di fronte a una condizione complessa, difficile da accettare, ciascuno a modo suo. Ansia, depressione, stress, perda di autostima, disagio sociale, ma soprattutto profonda frustrazione ed un fondo di vergogna. Sono tutti elementi che concorrono ad una crisi di vita e talvolta di coppia. Quinto messaggio in pillole. Infertilità e fattore età. Molte coppie iniziano a pensare di avere un figlio ad un'età che potremmo definire biologicamente avanzata, cioè quando soprattutto le cellule uovo della donna sono già un po' invecchiate, ma anche la fecondità dello sperma si è ridotta per infezioni, traumi, patologie, fattori tossici ambientali, alimentari e legati allo stile di vita, fumo, taluni attività sportive o lavorative. Un altro messaggio in pillole. Fertilità femminile. Un bene finito. È importante sapere che la fertilità femminile è massima tra i 25 e i 30 anni e poi pian piano si riduce con un calo molto marcato dopo i 35 e ancor più dopo i 40 anni. Questo è ancora più vero in donne che hanno patologie, come l'endometriosi per esempio, che possono intaccare il patrimonio follicolare, la cosiddetta riserva ovarica, o in donne che hanno avuto una chirurgia pellica. Ricordiamoci che dopo i 45 anni è davvero molto difficile avere un figlio. Un altro messaggio in pillole. Età della prima gravidanza. In Italia abbiamo il primato delle madri più vecchie d'Europa e l'ultimo report dell'Istat parla chiaro. 31.3 anni è l'età media alla quale si diventa madre. Tre anni in più rispetto al 1995. E il numero medio di figli per donna residente in Italia continua a scendere. 1.27. Soltanto poche coppie possono scegliere contemporaneamente due nomi al momento più gettonato. Leonardo e Sofia, è quasi una donna classe 79 su 4, non ha figli. Ed ecco un altro messaggio in pillole. Infertilità della donna. Molte le cause. Ma non c'è soltanto il fattore età. Sovrappeso e sottopeso, malattia e trasmissione sessuale, talora silenziose come la clamidia, possono portare ad infertilità a causa di aderenze tubariche. Aborti pregressi, patologie ginecologiche o sistemiche, come le malattie endocrine o t'immuno, fumo e sostanze tossiche. Tutte concorrono a compromettere uno stato di salute favorevole alla riproduzione. Ed eccoci a un altro messaggio in pillole. Fertilità nei pazienti dopo il cancro. L'Associazione Italiana di Oncologia Medica ci dice che ogni giorno in Italia vengono diagnosticati almeno 30 nuovi casi di tumore in pazienti di età inferiore ai 40 anni, pari al 3% dei casi totali. Gli enormi passi avanti nella diagnosi precoce, nella terapia dei tumori che insorgono in età giovane adulta, permettono a uomini e donne con in tasca il passaporto della guarigione di desiderare un figlio dopo la malattia. È il nostro compito aiutarli, tutelando la loro fertilità. Ed ecco un nuovo messaggio in pillole. Come preservare la fertilità nella donna dopo il cancro. Madri oltre il tempo della malattia 1.0 e 2.0 è un progetto di crowdfunding dell'Università di Pavia che è stato finanziato con successo negli anni scorsi e che ha permesso di attivare percorsi assistenziali per le donne, domo, chemioterapia, radioterapia ed altre terapie capaci di indurre una menopausa prematura o una bassa riserva ovarica. Creoconservare gli ovociti è una realtà che però richiede informazione e percorsi dedicati. Ed ecco un altro messaggio per preservare la fertilità nell'uomo dopo il cancro. Madri oltre il tempo della malattia 1.0 e 2.0 è un progetto di crowdfunding dell'Università di Pavia che è stato finanziato con successo negli anni scorsi e che ha permesso di attivare percorsi assistenziali per gli uomini dopo chemioterapia, radioterapie ed altre terapie capaci di ridurre la produzione degli spermatozoi da parte del testicolo. Creoconservare gli spermatozoi è una realtà sempre più diffusa che uomini di tutte le età devono conoscere. Creoconservazione cosa significa? La creoconservazione è un processo di laboratorio che permette di conservare nel tempo i gameti di uomini, gli spermatozoi e di donne gli ovociti in azoto liquido mantenendo inalterata la qualità del materiale congelato. I soggetti candidati alla creoconservazione sono i pazienti oncologici e quelli che hanno altre malattie croniche che mettono a rischio la fertilità futura. Una volta guariti questi pazienti possono impiegare il loro materiale biologico e realizzare paternità e maternità con tecniche di PMA. Ed ecco un altro messaggio in pillola social freezing una realtà emergente. Grazie ai progressi in tema di creoconservazione cioè di conservare in azoto liquido i gameti di uomini spermatozoi e donne ovociti nel tempo molti individui nel mondo stanno scegliendo autonomamente di congelare i propri gameti cosiddetto social freezing per le più svariate regioni mediche, personali, socioculturali investendo sul proprio futuro o eventualmente sul dono della fertilità. Fecondazione eterologa cos'è? La fecondazione eterologa applica le tecniche di PMA impiegando uova e spermatozoi e anche embrioni donati da individui differenti da noi. In Italia la legge la consente soltanto quando uno e entrambi i partner soffrono di una patologia che rende infertili in modo permanente con l'esclusione delle coppie omosessuali o dei singoli a differenza di molti paesi europei ed extraeuropei. Ed ecco un nuovo messaggio madri oltre una nuova pandemia da covid-19 paura per il futuro mancanza di certezze calo del desiderio altro che baby boom pandemico conseguente allo stress insieme a casa. Con il covid-19 le pulle rischiano di svuotarsi. Le stime dell'Istat ci dicono che siamo intorno ai 400.000 nati nell'anno 2020 ed il grande timore è che il perdurare dello stato pandemico possa far scendere le nascite ancora di più nel 2021 anche perché le attività di PMA sono rallentate. E allora come fare pandemia COVID-19 di vario di genere? Le donne si ammalano ancora più degli uomini di covid-19 probabilmente perché sono maggiormente esposte al contagio ma hanno un tasso di mortalità e di fatalità più basso. I meccanismi sono molteplici e frutto dell'intreccio di fattori genetici ed ormonali che contribuiscono a questa sproporzione di genere che è legata soprattutto a una modulazione specifica del sistema immunitario nella donna. Pandemia COVID-19 impatto sulla fertilità COVID-19 è una malattia comparsa di recente il che riduce giocoforza il tempo di osservazione dei suoi effetti sul lungo periodo. Gli esperti concordano dunque sul fatto che sia necessario attendere ulteriori studi prima di poter dimostrare un eventuale impatto sulla fertilità che potrebbe non soltanto essere frutto di cause biologiche ma anche di determinanti relazionali e sociali correlati al distanziamento. Madre oltre 3.0 ecco il crowdfunding per la ricerca dell'impatto del COVID-19 sulla fertilità dell'Università degli Studi di Pavia. Madre oltre nel tempo della malattia 3.0 è un progetto di crowdfunding che è dedicato a studiare la fertilità maschile nel corso di questa malattia collettiva che stiamo vivendo la pandemia COVID-19. Dati preliminari suggeriscono che il virus può avere un impatto negativo sulla qualità del liquido seminale per meccanismi diretti ed indiretti che coinvolgono ormoni infiammazione stress sostienici Madre oltre 3.0 crowdfunding per la ricerca perché non soltanto COVID-19 numerose infezioni virali come il papilloma HPV epatiti HIV e non soltanto COVID-19 del quale sappiamo ancora troppo poco possono avere un impatto sulla qualità del liquido seminale e rappresentare fattori di rischio per l'infertilità Dobbiamo imparare a conoscere gli effetti di COVID-19 più a fondo anche per il possibile impatto sull'apparato riproduttivo femminile Gli effetti del nuovo coronavirus sono probabilmente transitori in modo simile ad altri coronavirus del passato ma la ricerca deve dimostrarlo Sostienici Vaccino COVID-19 e fertilità Non ci sono evidenze che suggeriscono che il vaccino COVID-19 comporti dei rischi particolari nelle donne che ricercano una gravidanza o che sono in attesa di trattamenti per la fertilità Dunque non è necessario dilazionare il progetto di gravidanza per tumori infondati sugli effetti negativi della vaccinazione Donne a rischio professionale o con patologie come obesità e ipertensione arteriosa che sono indice di peggior prognosi devono vaccinarsi anche nell'ottica di ridurre la severità dei sintomi e le possibili complicanze per il feto per esempio il parto prematuro nel caso di infezione da COVID-19 in gravidanza Vi ringrazio per l'attenzione e spero che vogliate sostenere la nostra campagna Madri Oltre il Tempo della Malattia 3.0 Unipv Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti